Ciao siamo Michael e Anderson Adesso stiamo facendo la collezione di carte di Michael Sono dalle facili da trovare e quelle rare Tutti i numeri Numero 39 E' bella questa carta Non è semplice Poi numero 17 Facili da trovare 83 Regina Galattica Facili da trovare 85 Facili da trovare Eppure non è tanto forte Il numero Cavaliere non è forte Gol numero 30 Cito da distruzione E' una pippa Scusate cito da parole Numero 12 Non è raro Poi numero 20 Gigabillante In edizione limitata E' rarissima Guardate qua In edizione limitata Non si vede tanto bene Poi ci sta il numero 57 Polvere tricefalo E' molto rara Non tanto rara Poi ci sta il numero 56 Ratto d'oro Poi ci sta Che è facile E' molto difficile da trovare Molto difficile 44 Pegaso del cielo Che è Difficile da trovare E' difficile da trovare Poi numero 15 Arnese Vabbè macinatore gigante Vabbè macinatore gigante Poi numero 61 Volcasauro Che non si trova tanto Pure questo 69 Cimiero dell'Analdo Non si trova tanto Poi numero 33 Cimiero dell'Analdo Cimiero dell'Analdo Cimiero dell'Analdo Non si trova tanto 63 Si trova 87 Regina della notte Non si trova facilmente Si trova Si trova E' fanno E' fanno Vedere le più rare Che abbiamo Numero 40 Burattino Arnese Delle corde Poi numero 46 Drago Leone Che è rarissimo E poi numero 9 Sfera Tyson E la carta più rara Che abbiamo Numero 92 Drago Arten 92 Capito? 92 E' Indistruttibile Adesso vi rifacciamo Vedere tutte le carte Vabbè Micara Guardate Aspettate Eccoci qua E facciamo vedere Le due carte più rare Numero 48 E Drago